Un saluto a tutti voi da parte mia e della redazione. Eccoci all'ultimo appuntamento con la nostra informazione. È stata una lunga giornata, un lungo pomeriggio cominciato alle 15 e 30 quando sul sagrato della Basilica Minore di Castelpetroso è arrivata l'auto che portava in chiesa Monsignor Biagio Colaianni. L'arcivescovo di Campobasso oggi ha preso possesso ufficialmente della diocesi. L'ingresso nella diocesi si dice baciando il terreno appena sceso dall'auto e poi con un lunghissimo cerimoniale che si è concluso con la messa. Un cerimoniale che come era accaduto quattro settimane fa noi abbiamo seguito in diretta con le nostre telecamere. A margine della messa la diretta con il Vescovo nell'edizione delle 19 e 30 del nostro telegiornale. Sentiamo cosa ha detto intervistato da Stefano Ricci. Eccellenza stavamo commentando che bella festa di cuore per la chiesa molisana oggi e che bell'abbraccio che lei ha ricevuto anche dai tanti lucani che si sono uniti ai nuovi fedeli. È stato veramente per me un momento di verifica di quanto l'accoglienza sia profonda, sia spontanea, sia vera. Questo incoraggia e mi dà forza per quello che è il ministero che andrò ad iniziare nell'arcidiosi di Campobasso Boiano. Sicuramente la gente affettuosa e accogliente non solo per la mia persona, non ci conosciamo, spero che questa avvenga prossimamente in tutte le occasioni possibili che ci saranno date. Ma sono convinto di essere il segno di una presenza e vicinanza della Chiesa, di Dio. Per cui poi tanto affetto è il segno di un popolo che crede, di un popolo che ha fede. E poi venendo qui a Castelpetroso, ho visto la bella terra, un popolo sicuramente che sa che significa il lavoro e saper trarre frutto dal proprio impegno. Quindi è un popolo sicuramente forte, capace, con il quale spero di poter collaborare in tutto quello che può servire per raccogliere assieme i frutti della condivisione di un cammino di fede, ma anche di un cammino umano e storico, per come ogni giorno voi fate nelle vostre case, nelle vostre famiglie. Sento di essere accolto e di poter sentirmi a casa. Per cui accoglietemi con questa idea di poter essere familiari con voi nella vostra vita, in senso chiaramente di vicinanza che Dio dà con la mia persona. Grazie. Grazie ancora e il Signore benedica a voi tutti e benedica a tutti i molisani e non solo tutti coloro che raggiungono la TV con il desiderio di accogliere la benedizione. Il Signore vi benedica. Torniamo invece in studio e parliamo del coordinamento regionale di Fratelli d'Italia guidato da Filoteo Di Sandro che si è riunito a Campobasso. Al centro dei lavori la sanità con tutti i temi dell'agenda politica, compreso le candidature alle prossime elezioni. Sentiamo le novità da Anna Maria Di Matteo. Sanità, emodinamica, disernia e le elezioni amministrative sono stati temi principali affrontati nel corso della riunione del coordinamento regionale di Fratelli d'Italia. All'incontro che si è svolto a Campobasso erano presenti i vertici regionali del partito, la delegazione parlamentare, i consiglieri e gli assessori regionali. Nella ribadire la centralità del partito all'interno della coalizione di centrodestra, il coordinamento guidato da Filoteo Di Sandro al termine di un articolato dibattito ha deliberato all'unanimità un documento nel quale chiede di difendere con determinazione in ogni sede la sanità pubblica, in particolare il servizio di emodinamica disernia che, come noto, andrebbe accorpato a Campobasso. Un tema questo che dunque continua a essere particolarmente caldo all'interno della politica regionale e che Fratelli d'Italia intende affrontare con decisione. L'altra questione sul tappeto riguarda le elezioni amministrative. In questo caso il partito, in occasione della riunione del tavolo della coalizione di centrodestra, chiederà la possibilità di esprimere un vertice in una delle due città tra Campobasso e Termoli, nelle quali si voterà tra qualche mese. Il coordinamento tornerà a riunirsi ed aprile. La giunta regionale approva la delibera sul fondo di coesione senza alcun confronto con il Consiglio e il partenariato. Lo sostiene la consigliera regionale del Partito Democratico, Micaela Fanelli, secondo la quale non si capiscono il metodo e il merito con cui si è proceduto. Lo avevamo chiesto in aula, ha ricordato Fanelli, e insieme al consigliere Gravina, componente della prima commissione, la commissione che è competente in materia di programmazione, anche per iscritto. Invece la decisione è stata adottata in solitudine dalla giunta, dispiace, ha concluso l'esponente del PD perché il proponente Michele Iorio ha sempre professato l'esigenza primaria di ridare centralità alla discussione in Consiglio con le parti sociali. La cronaca ci porta a Campomarino, dove c'è stato oggi l'ultimo saluto a Gabriele Di Vito, il ragazzo di 30 anni che è morto dopo l'allenamento sul campo di calcio a Guardialfiera, nella squadra dove giocava. Sentiamo i particolari nel servizio di Dalila Catenaro. Una chiesa gremita per l'ultimo saluto a Gabriele Di Vito, parenti, tanti amici e tutti coloro che l'hanno amato, presenti per salutarlo un'ultima volta, per dargli quell'addio tanto difficile da rendergli. Le campane hanno scandito l'arrivo del feretro tra dolore inconsolabile e incredulità. Il tempo sembrava essersi fermato dinanzi quegli sguardi induriti dal dolore. Un momento di commozione che è emerso in maniera drammatica sui volti dei tanti presenti. Una morte improvvisa e inspiegabile, quella di Gabriele, che lo scorso 5 marzo ha accusato un malore accasciandosi a terra negli spogliatoi dopo un allenamento calcistico andandosene a soli 30 anni. Lascia un bambino piccolo, la compagna di vita, i genitori, parenti e tanti amici. Uno shock per tutto il Basso Molise e per le comunità di Campomarino e Guardialfiera, i cui sindaci hanno disposto il lutto cittadino. Nella Santa Messa ufficiata da Don Rosario Candigliota, il parroco ha ricordato nella sua omelia le qualità e le virtù di Gabriele, un ragazzo splendido che ha saputo donare amore ricevendone a sua volta. Presenti anche i rappresentanti di diverse società calcistiche, i compagni di squadra che hanno voluto dire addio a Roman, così chiamato da tutti. Un ragazzo che non verrà mai dimenticato, poiché le pieghe del tempo non sbiadiranno mai il ricordo del giovane calciatore che amava la vita e che continuerà a giocare a pallone nel ricordo di coloro che l'hanno amato per l'eternità. E i carabinieri del NAS di Campobasso, durante servizi di controllo a delle aziende casearie, hanno disposto la chiusura di alcune ditte a causa delle irregolarità che erano state riscontrate. Sentiamo. Pavimenti unti di grasso e scivolosi, ragnatele ai soffitti e pareti annerite per la muffa, tutto in contrasto con il bianco del latte. Due caseifici sono stati chiusi dai carabinieri del nucleo antisofisticazioni che in queste ultime ore hanno concluso le ispezioni in alcune aziende di trasformazione del latte in provincia di Campobasso e Isernia. In particolare i NAS si sono imbattuti in due situazioni davvero problematiche. Lo sporco era presente ovunque dalle attrezzature sulle quali è stata rilevata la presenza di lavorazioni pregresse, alle strutture gravate da evidenti carenze igieniche e sanitarie. Oltre alla lavorazione del prodotto i caseifici erano predisposti anche per vendere al dettaglio mozzarella, formaggi e ricotte. I carabinieri hanno effettuato i controlli insieme al personale specializzato dell'azienda sanitaria regionale. Per due attività è stata disposta l'immediata chiusura. In un altro caso invece i NAS hanno sospeso un deposito in cui erano conservati latticini e formaggi che non aveva la registrazione sanitaria e i requisiti minimi obbligatori per legge. Per le violazioni correlate alle irregolarità rilevate sono state contestate sanzioni amministrative per 9.000 euro. I titolari delle attività sottoposte a controllo sono stati inoltre segnalati all'autorità sanitaria e amministrativa. In occasione della giornata internazionale della donna la guardia di finanza di Campobasso ha intensificato i controlli. Dopo una serie di servizi sono stati sequestrati 350 chili di generi alimentari e decine di fasci di mimose che erano venduti senza alcuna autorizzazione e completamente in nero. I prodotti alimentari sono stati poi donati dalle fiamme gialle su autorizzazione delle autorità comunali alle strutture caritatevoli della città, un gesto di solidarietà verso i più bisognosi. Durante il suo intervento all'inaugurazione dell'anno accademico dell'università il presidente della regione Roberti ha dichiarato che sono programmati 10 milioni per l'Ateneo da investire in tecnologia. Sentiamo Tonino Danese. Dei 67 milioni del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nella misura un molise più intelligente, la regione ha programmato 10 milioni per università e tecnologie. A dirlo nel suo intervento all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Unimol è stato il governatore Francesco Roberti. Il presidente è entrato nel dettaglio spiegando che 3 milioni di euro saranno utilizzati per potenziare servizi e tecnologie in ambito anche di infrastrutture per consolidare e mettere in sicurezza le sedi universitarie. Con l'Ateneo inoltre, ha continuato Roberti, abbiamo individuato 10 idee di progetti di alta innovazione tecnologica e di servizi per valorizzare il territorio e avere ricadute positive per realtà imprenditoriali e produttive anche con formazione specialistica degli operatori. Il governatore ha poi continuato dicendo che sono state programmate azioni congiunte per potenziare la rete medica ospedaliera e la medicina territoriale con progetti di formazione universitaria e specialistica utilizzando dove necessario anche le strutture private accreditate per la ricerca in campo medico e biomedico riguardo a fattori ambientali e genetici alla base di malattie cardiovascolari, neurodegenerative e tumori sono stati programmati 2 milioni e 300 mila euro. Altri progetti, ha continuato Roberti, sono stati pianificati per i trasporti e la mobilità degli studenti per il servizio mensa nelle tre sedi universitarie, per fruire meglio di biblioteche e musei di Ateneo, per la formazione lavoro, per le borse di studio così da poter rispondere a tutte le legittime aspettative degli studenti. Cominciata oggi a Isernia la raccolta firme per l'annessione della provincia all'Abruzzo, due i banchi per la raccolta in città, uno in piazza stazione, l'altro nella piazza della cattedrale, un'iniziativa organizzata dal Comitato per l'aggregazione che andrà avanti anche nei comuni della provincia fino a quando non saranno raccolte le 5 mila firme necessarie. Oggi invece davanti al reparto di psichiatria, sempre a Isernia, sit-in dell'associazione a attivare la Costituzione, chiedono di riattivare i ricoveri per fornire un servizio più adeguato e per i pazienti e le famiglie nel reparto di psichiatria. Il servizio è di Barbara Fino. L'ospedale veneziale di Isernia continua ad essere protagonista di sit-in e di incontri per preservare quanto più possibile le funzionalità dei reparti, per offrire ai pazienti servizi assistenziali idonei alla loro necessità. Servizi che al momento non vengono forniti dal reparto di psichiatria. Ernesto Giannini, presidente dell'associazione Attuare la Costituzione, chiede di nuovo a gran voce di far ripartire i ricoveri in questo delicato riparto, inattivi da oltre un anno. Non ci vuole molto a pubblicare i banti per reperire il personale che occorre e quindi riattivare il reparto ricoveri. La chiusura dei ricoveri nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Isernia crea gravi problematiche non solo per i pazienti ma anche per le famiglie e per il personale ospedaliero che si sottopone a rischi ogni volta che un paziente in grave stato psicofisico viene trasportato in un altro ospedale per il ricovero. Le malattie psichiatriche devono essere trattate alla pari delle malattie cardiovascolari ad esempio. Anche la depressione, secondo Giannini, è tempo dipendente, capace persino di indurti alla morte. La depressione, quando assume caratteristiche molto ma molto critiche, diventa anch'essa una malattia tempo dipendente. Il tempo che trascorre dalla presa in carico di questa persona al luogo di cura può fare la differenza tra la vita e la morte. E restiamo a Isernia perché in città è stata inaugurata la nuova sede delle Merlettaie, uno spazio espositivo nel centro storico dove saranno messe in mostra le opere delle artigiane. Il servizio è di Davide Gambardella. Le Merlettaie di Isernia hanno una nuova sede espositiva nel cuore del centro storico della città Pentra. Nella giornata internazionale delle donne è stato infatti inaugurato in Piazzetta San Felice lo spazio espositivo dell'associazione Il Merletto di Isernia, l'arte nelle mani. Un luogo dove si potranno ammirare le creazioni delle maestre merlettaie Pentre, preziose custodi della tradizione sernina. Un'inaugurazione a cui hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni e anche le merlettaie di Offida in provincia dell'Aquila e di Tavenna in provincia di Campobasso. La nostra associazione ha raggiunto un ulteriore traguardo che rappresenta un elemento cruciale perché l'estensione delle merlettaie si sta divulgando in tutto il centro storico partendo dall'Ecomuseo che parte da Piazza Concezione fino ad arrivare a Vicoletto, Concezione e Vicopendri è approdato fino a Piazza San Felice, un'altra piazza molto importante e storica per la nostra città. Con questa apertura praticamente si offre alla cittadinanza e ai turisti l'opportunità di vedere per il momento fino all'apertura del Borgo del Merletto ogni pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30 le merlettaie all'opera all'interno di questa meravigliosa sede mentre quando si inaugurerà il Borgo del Merletto tutto ciò sarà visibile dalla mattina fino alla sera. Questa location offerta praticamente dal signor Ferdinando Veneziale accomodato d'uso gratuito è stata per noi veramente una manna mandata dal cielo perché avevamo proprio bisogno di un posto così importante dove poter far confluire le nostre merlettaie e operare con la cittadinanza e con i turisti. Le nostre merlettaie stringono amicizia con le merlettaie di tutto il territorio nazionale e questo fa sì che praticamente la nostra attività sta prendendo sempre più piede anche al di fuori della nostra regione. La disparità di genere anche nel credito bancario agli uomini va quasi il doppio dei prestiti rispetto alle donne quanto emerge da una ricerca della Federazione Autonoma dei Bancari sul credit gender gap. In Molise la quota rosa del credito si attesta intorno al 20,7%, 18 punti percentuali al di sotto rispetto agli uomini. In questa particolare graduatoria però il Molise si colloca leggermente al di sopra della media nazionale. E parliamo dello spettacolo Ti racconto una storia. Sul palco del Savoia l'attore, regista e sceneggiatore Edoardo Leo. Il servizio è di Tonino Danese. E' l'orchestra più piccola del mondo con Ionis Bashir e le sue chitarre realizzate a Boiano ad accompagnare con elegante, brio e delicato sottofondo il moderno cantastorie Edoardo Leo. Tre lavagne, una poltrona e libri sparsi, un leggio, la semplice scenografia. Il poliedrico, regista, attore e sceneggiatore romano, ha riempito anche il teatro Savoia di Campobasso Sold Out, entrambe le serate della stagione della Fondazione Molise Cultura. Da dieci anni fa il tutto esaurito ovunque in Italia con il suo Ti racconto una storia. Un piccolo saggio, divertente, leggero ma anche profondo sul potere del racconto e del raccontare. avendo come guida Gabriel Garcia Marquez, Alessandro Baricco, Mark Twain. Il racconto, nelle sue diverse sfaccettature, l'oralità e la scrittura, il quotidiano, il grottesco, il surreale, il comico e la commedia come una storia può trasformarsi, gonfiarsi e diventare anche altro. Come facevo le cantastorie una volta, giriamo in città e in città e in paese. Il racconto breve, l'aneddoto, la barzelletta con l'omaggio al maestro Gigi Proietti declinati attraverso fatti sentiti o vissuti dallo stesso Leo e che riguardano la sua trentennale carriera trasformati in commedia con la sua ironia e autoironia schietta a tratti cinica e si ride di gusto. Se poteva guardare questa macchina piena di bozzi di cose, col tettino tagliato e ha attaccato il cartello con scritto vendesi, telefonare, ore, pasti, Mario e sotto un romano ci ha aggiunto Mario Magna Tratturillo. Racconta e si racconta l'one man show, riflette e fa riflettere anche su tematiche impegnate e omaggia le donne con la poesia in piedi, esilarante poi con il racconto dell'autoradio l'interpretazione del decalogo di Baricco sul cambio del pannolino, applausi e risate con Leo, anche tra il pubblico coinvolgente, improvvisa col suo faldone di appunti raccolti negli anni come Canovaccio e Ispirazione e Bascir che lo segue, rapisce il monologo sulla bellezza del ridere e della risata uguale in tutte le parti del mondo che accomuna. Ridere è un segnale di cessapallare, state dicendo a quelli che stanno intorno a voi non sono in pericolo, questo significa ridere, non sono in pericolo, piangere non sono in pericolo, ridere no, non sono in pericolo, sto bene. La comicità, l'ironia, la satira sono sentinelle della democrazia e sono cultura, dice Leo. Carl Krauss ha detto quando il sole della cultura è basso anche i nani sembrano dei giganti. La cultura è sempre, sempre, sempre l'ultimo spiraglio di luce prima della vita. E parliamo del premio Termoli e Donna conferito a tutte le personalità che si sono contraddistinte nel corso degli anni a Termoli, il servizio di Francesco Di Giacomo. Un riconoscimento tutto al femminile, quello che è stato conferito durante la premiazione tenuntesi al circolo della vela a Termoli in occasione della festa internazionale della donna. Un modo per continuare a spiegare come la figura della donna oggi sia diversa da quella di un tempo, dopo anni di lotta per la conquista dei diritti e per la parità di genere. Un tentativo ancora necessario per chiarire una volta per tutte come non abbia più un motivo di esistere la distinzione tra sesso debole e forte e che dovrebbe essere applicata anche nel lavoro, oltre che nel sociale. In un periodo nefasto nel quale assistiamo ogni giorno a case di molestie, verbali e fisiche, soprusi o addirittura annichilimento della donna nel suo essere più profondo e per certi versi elementare, occorre una svolta per lanciare un segnale ben preciso, in Europa come nel resto del mondo. Non bisogna aver paura di attribuire alla donna il suo reale valore, in quanto a volte può essere superiore, anche per quanto concerne le facoltà intellettive, rispetto a quello di un uomo, che non per questo deve sentirsi minacciato. Anzi, dovrebbe invece essere consapevole della forza che una donna può avere e non sottovalutarla o svilirla, ma esaltarla, lasciandola libera di esprimersi in tutte le sue potenzialità. Mi dispiace dire che la donna va festeggiata, rispettata, amata ogni giorno dell'anno. Lo diciamo ogni anno e ci ritroviamo qui, sempre nella stessa medesima condizione. Noi quest'anno, la seconda edizione, è un premio per la donna, le donne che si sono distinte nella nostra città, sulla nostra regione ed è un riconoscimento che vogliamo dare appunto alle nostre concittadine. È un segnale, si potrebbe fare di più come in tutte le cose, ci adoperiamo, il nostro leader Meloni sta facendo tanto per le donne in campo sociale, in campo di famiglia, nel campo del lavoro. Quindi che cosa dico? Dico che l'uomo dovrebbe essere il compagno, l'amico, la persona che si fa in quattro come lo fa la donna, perché noi abbiamo donne forti che ogni giorno affrontano le piccole difficoltà, ma abbiamo anche le donne deboli che trovano la forza di rialzarsi e andare avanti per se stesse, per la famiglia e per loro figli. È un'occasione per dare una piccola riconoscenza a tutte le donne termolese che sono distinte sul campo. Donne di ogni categoria, professionisti, donne industriali, donne colte, donne casalinghe, donne autiste, donne poliziotti, donne di ogni categoria e genere. Oggi le donne sono più potenti di una volta, anzi coprono ruoli che i uomini magari una volta erano l'unici che li facevano. Oggi la donna copre ruoli molto importanti, le fa anche bene, le fa con criterio, le fa con scrupolo e soprattutto in tutto il mondo, non diciamo solo in Europa, anche nel mondo arabo le donne oggi coprono ruoli importanti. A livello complessivo le tematiche che ha evidenziato sono trattate all'interno dell'Unione Europea con dei provvedimenti legislativi che hanno ricadute su tutti gli Stati membri. Ma accade che poi i governi possono dare più o meno attenzione a questa cosa e sappiamo già che ci sono dei punti all'interno dell'Unione Europea in cui la situazione istituzionale è particolare e ci sono stati dei, come dire, ci sono degli stalli sull'attrazione di queste politiche. Ed è tutto anche per l'ultimo appuntamento con il telegiornale, il prossimo con la nostra informazione è quello di domani mattina con la rassegna stampa da parte mia e della redazione. Grazie per essere stati con noi e buonanotte. Grazie per aver guardato il video.